Siamo con Antonio Carulli, dirigente Settimo Calcio, ciao! Ciao! E qua il porterone Bruno Carfì, sempre presente ai nostri microfoni, grazie mille, di Milano Pirates, ciao anche te! Ciao, ciao, buonasera! Allora, questa sera, direi sfida fra deluse della settimana scorsa, entrambe avete perso, quindi dovete riscattarvi, siete pronti perché il riscatto stasera è un big match tosto? Diciamo di sì, speriamo in bene, speriamo di poter vincere, visto che la settimana scorsa purtroppo abbiamo qualche assente, però ce la metteremo tutta in sostanza. Anche voi la settimana scorsa non è andata benissimo, insomma, una sconfitta che un po' brucia? Un po' brucia, è arrivata comunque contro una buona squadra, stasera speriamo di riprenderci, loro sono forti, è comunque una bella partita, quindi sarà un piacere, comunque vada. Bene, allora, visto che fa freddo, datevi la mano, insieme di Fair Play, buona partita, grazie! Ciao, grazie! Ragazzi non siamo troppo presto eh Dai che buono Dai eh Bravo Roby Buona, 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 buona Due Ah dai raga, piottete però Sì, dimmi Fondo, fondo Via, via Volo, volo Tieni, tieni, tieni Tieni, tieni, tieni Aspetta, fate un attimo Oh Grande, Davide Oh Guarda, capitano, guarda Guarda, forza Guarda, forza Dai, dai, dai Ancora Ehi, c'è Paolo Bravo Bravo È ferma Occhio Solo Solo, solo, bravo Vierà Atta Guarda Guarda, guarda Guarda Terminato 1 a 1 Il primo tempo del big match Tra Settimo e Milano Pirates Con le segnature di Da Grada e Arcerito Adesso Sì Sì Giorgio Sì 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 Sììììì! Grazie, va bene, va bene, va bene! Grazie! Vieni a tutti nella punta! Senti favore! Sì! Bravo! Tira, tira! Bravo! Vai gol! Bravo! Bravo! Gioca, gioca lì! Gioca lì! Gioca lì! Gioca lì! Uh! Buono! 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 Buono!